Salve, il mio nome è Fred Johnson e vi guiderò nel riconoscere le cose. Si può confondere una donna con un cesso? In Alabama un uomo scambia il suo cellulare per carta igienica. Il nostro psicologo Mark Brown ci spiegherà gli eventi. È stata colpa del bianco. Si può confondere un politico per un Monegrapher? E Terraria è un complotto alieno? Gli FB35 valgono davvero così tanto o ci hanno fregato ben bene? I Rotoloni Regina sono dotati di vita propria? Questo ed altro a Riconosciamo le cose. Grazie per la visione! Grazie per la visione!